Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come mettere, come cambiare la lingua, attraverso il protocollo ovviamente se vi trovate il gioco nella lingua russa, inglese, spagnolo, tedesco e possiamo metterlo in italiano senza problema, più i dialoghi e il testo in italiano, quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro gioco su Steam nella sua cartella, quindi in questo caso vai su Steam vai sulla sua rotella, vai su gestisci, vai su sfoglia i file locali, una volta entrati così nella sua cartella andiamo direttamente su engine, binaries, third party, steamworks, steamv64 ed eccolo qua, steam, trattino basso, emo, ci clicchiamo sopra, scendi fino a giù fino a trovare il language, da english scrivi italian, quindi in questo caso da english scrivi italian e salvi così il documento è salvo, una volta fatto non ci resta che avviare il gioco ovviamente se ti trovi ancora il gioco in inglese o un'altra lingua puoi sempre andare su opzioni, andare su lingua come puoi vedere dialoghi da italiano dialoghi in italiano come puoi vedere non posso neanche cambiare quindi switchare da italiano a english, quindi ho messo direttamente italiano tanto è italiano, sotto titolo italiano, testo italiano, facciamo indietro e non ci resta che giocare e vedere e sentire così le loro voci immagini scioccanti d'europa uno sfrontato attacco del gruppo terrorista di estrema perfetto, è in italiano ne ho abbastanza, abbiamo del lavoro da fare controllo hangar di calisto a caroteio jc, avete superato il perimetro di sicurezza ricevuto controllo hangar, restiamo in rotta per la stazione europa vuoi dire qualcosa o farai scattare quell'affare tutto il santo giorno? stavo guardando quello è la nostra ultima corsa max, non ne parliamo più allora cosa vuoi che dico? grazie magari, dato che dopo questo non dovremo più lavorare un solo giorno in vita nostra vedo che hai già pensato a tutto direi di sì e dai su, che storia è? eh? avanti e indietro, calisto e europa e tutti i controlli di sicurezza è una luna prigione max, la prendono sul serio la sicurezza quindi, in questo caso, se questo video vi è stato utilissimo su come cambiare la lingua al gioco e non avere più problemi riguardo ai dialoghi in inglese, russo, tedesco, spagnolo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao